Cari cittadini di Paolo VI, del quartiere Paolo VI di Taranto, purtroppo, spero che lo abbiate capito, l'amministrazione comunale Melucci, il sindaco Melucci e la sua giunta vi considerano abitanti cittadini di serie C, perché guardate un po' come il quartiere è ridotto, aspetto per aspetto, punto per punto, oggi voglio soffermarmi sulla condizione delle strade, paurosa, paurosa, guardate, siamo in via Pietro Nenni e per voi questa è una città civile? Questa è la Taranto capitale europea di cui si vanta tanto Melucci? Melucci che vuol far assurgere Taranto a una dimensione europea? Capitale europea, capitale di che cosa Melucci? Delle tue chiacchiere, delle tue favole, dei tuoi inganni politici? I cittadini di Taranto e nello specifico i cittadini di Paolo VI meritano queste strade? Cos'è una gruviera? Che cos'è un campo da golf? Ma immaginate i rischi che corrono e i pedoni quando attraversano e le automobili stesse, i vari componenti meccanici delle automobili? Guardate, è incredibile, guardate, peraltro stiamo parlando di una strada ad altissimo scorrimento, a scorrimento veloce in cui anche la segnaletica, guardate, la segnaletica è completamente scomparsa, la segnaletica orizzontale è completamente scomparsa, guardate, sbiadita, non vi è più traccia, ma stiamo scherzando veramente? Le linee dell'attraversamento pedonale scomparse, perché questi sono cittadini di serie C, questa è la considerazione che Melucci ha degli abitanti di Taranto e di Paolo VI nello specifico, ma ti aggiorno, tu che sei così raffinato e fighetto, che dici, ci facciamo una bella partita a golf? Guardate, qui c'è anche la buca per le palline da golf, una qui, poi io batto e vado a finire qui e magari la pallina entra in quest'altra buca, prendiamola a ridere perché c'è da piangere, caro Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, e che lavori pubblici! E guardate questi crateri, questo per esempio, è a pochi metri di distanza un altro, altri, 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 altri ancora, guardate qui, immaginate cosa succede per una moto, una moto quando queste buche, questi crateri sono completamente nascosti dall'acqua e non si vedono, i rischi che i motociclisti corrono, sindaco Melucci, assessore Mattia Giorno, è a rischio la vita, la vita dei Tarantini! Non è possibile sciacquarsi la bocca, assessore Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, tu che fai tanto il fighetto politicamente parlando che giri, vai a Roma, vai a Torino, vai all'estero e fai vedere l'immagine di Tarantino, questa fa vedere, caro Mattia Giorno, questa merda devi far vedere, quella merda che voi nascondete, perché la nascondete e io politicamente vi sputtano, vi faccio vedere le chiacchiere e dimostratevi il contrario, dimostratevi se è vero o no quello che sto dicendo, me lo sto inventando io questo degrado? Sono venuto io stanotte a picconare il manto stradale, a picconare l'asfalto? Sparite politicamente da Taranto, siete la rovina politica di Taranto, andatevene a casa, il cittadino paga le tasse, per avere quali servizi? Per avere questa merda? Per avere questa merda? Vergogna! Grazie a tutti! Grazie a tutti!